Non c'è più tempo per esprimere la propria preferenza in merito alle proposte progettuali per il bilancio partecipativo 2022. E' scaduto infatti il 22 gennaio 2023 il termine per la votazione e adesso è stato pubblicato sul sito del Comune Nisseno l'esito. Poco più di 850 voti in totale espressi e 5 progetti più votati, 4 appartenenti all'area tematica cultura e uno allo sport. Ad ottenere più voti per l'esattezza 222 è la proposta progettuale sulle ali del successo dell'Associazione di Promozione Sociale sulle ali della musica. Al secondo posto con 178 voti per corsi di arte urbana dell'Associazione Culturale Creative Spaces. Terzo posto con 121 voti per il progetto Ti racconto Caltanissetta dell'Associazione Scientifica Ollus Ritmamente. Quarto posto per la proposta progettuale legata allo sport dal titolo Senza Confini riprendiamo a giocare insieme dell'Sd Polisportiva Nissena di Caltanissetta che ottiene 64 preferenze e infine 61 per Agape Famiglie e Disabilità al centro dell'educatrice professionale sociopedagogica Jessica Napoli. La somma dei costi dei progetti vincitori e dunque ammessi al finanziamento raggiunge l'intera cifra assegnata al bilancio partecipativo 2022 e cioè 40.000 euro. Ciascuna proposta progettuale infatti doveva prevedere un costo massimo di 8.000 euro e quindi stando all'avviso non ci sono proposte progettuali da inserire a scorrimento di graduatoria, si legge, poiché l'importo è stato coperto in totale.